Grazie, buongiorno, sono Davide Ammirata e oggi parleremo di open source community. Coinvolgono tutti, ma non tutti lo sanno. Le community sono un qualcosa che ci vedono coinvolti, che usiamo i loro risultati, ma a volte non ce ne rendiamo conto. Alla fine presentazione avremo visto come collaborare con le community, due use case che ci illustreranno come questo sia più facile di quanto si pensi. Magari uno pensa è una cosa difficile poter mettere mano su qualche cosa, no, non lo è, si ci può arrivare. Quindi entrare in contatto con la community, sottoporre le proprie modifiche rispettando i canoni scelti dalla community, perché ogni community ha le proprie regole, essere ripresi quando non lo si fa, perché a volte bisogna essere anche corretti, vedere accettati e implementati i propri contributi e gli skill di cui avremo fatto uso. Allora, i device che utilizziamo, come device intendo apparati, vedremo chi li ha fatti, ossia le persone, quando e perché li hanno fatti, perché ogni device che noi utilizziamo qualcuno lo ha realizzato, qualcuno ha progettato l'hardware, qualcuno ha progettato il software e nella maggior parte dei casi noi non sappiamo minimamente chi ci siano le persone dietro, quindi chi ha fatto il progetto hardware e software e molti di questi device hanno la possibilità di aver aggiornato il firmware e a volte possiamo aggiornarglielo anche noi facendocelo noi. Quindi, chi governa l'hardware? L'hardware è una cosa materialmente stupida, è il software che dà l'intelligenza all'hardware, decide cosa può fare l'hardware, se può fare una cosa o ne può fare un'altra. Quindi nel fare il software possiamo prendere due strade, scegliere di riscriverlo da zero, quindi io prendo l'hardware, decido di mettermi a riscrivere a basso livello tutto quanto, oppure riusare e adattare quanto già esistente. Nella maggior parte dei device il software non viene mai scritto da zero, a meno che non ci sia un motivo ben preciso, ma viene riutilizzato qualche cosa. Allora, cosa intendo per riuso? Noi dobbiamo paragonare il software che compone un firmware ai colori di un pittore. I colori di un pittore sono elementi base, che mixati ci danno un quadro di Van Gogh, oppure ci danno una porcheria. La stessa cosa, il software. Lo possiamo considerare come dei mattoncini che fanno qualche cosa, a solo magari sembra una cosa stupida, mixati assieme fanno delle cose spettacolari. Tutti quanti abbiamo a che fare con dei software. I software possono interoperare fra di loro e quindi magari aggiungendo un mattoncino possiamo arrivare a far fare qualcosa in più al device che a noi interessa. Quindi il software può essere composto da codice proprietario o da codice assorgente aperto. Chi vi può accedere? Nel codice proprietario, se riuscite ad accedervi, dovete firmare un NDA, un Non Disclosure Agreement, con chi vi dà il software e potete metterci mano. È difficile però arrivare a modificarlo. È uno con un progetto chiuso, quindi dettagli costruttivi riservati. I progetti liberi non significa che i prodotti debbano essere gratuiti. I prodotti, il software, così come la porta blindata, possono essere a pagamento. Quindi ci può fare ugualmente business, dando un vantaggio per tutti quanti. Se tu hai la capacità di prendere il progetto e di costruirti la porta blindata da sola, bene, avrai risparmiato. Se tu non hai la capacità, puoi guardare dentro il software, puoi decidere di fartelo realizzare da qualcun altro e quindi paghi la realizzazione. Ritornando al software, è una teoria bellissima, perché non sempre bisogna essere dei geni per poter iniziare a guardare dentro un codice sorgente. A volte mi sono reso conto che è più semplice di quanto si pensi di riuscire a fare qualche cosa in più. Io mi sono ritrovato a voler fare qualche cosa, dire ma da dove inizio? Boh, non lo so, ora vediamo. Ho deciso di guardare e ho scoperto che la cosa è molto più facile di quanto possa uno pensare all'inizio. Vantaggi. I vantaggi che ci dà poter mettere mano al software è ridurre l'obsolescenza, migliorare le performance. Lo vedremo con tutti e due gli use case che presenterò. Quindi, dopo anni che ho passato ad utilizzare un software open source per il router, quale OpenVRT, una curiosità, chi di voi ha la DSL a casa? Penso la maggior parte di voi. Chi di voi ha un Team Hub a casa? Alzate le mani, c'è qualcuno che ha il Team Hub? Uno solo. Il Team Hub è governato da OpenVRT come software. Dentro c'è questo software di qua. Quindi, avevo una necessità. Io non ho il Team Hub, ho un altro router con OpenVRT. Ho deciso, quindi per riuscire a risolvere la mia necessità, di guardare dentro i codici soggenti, che sono pubblicamente disponibili. Quello è il mio router. La necessità è che, insieme ad un amico che è qui presente, anni fa abbiamo preso due di questi router, costruiti da dei ragazzi cinesi, che poi ho scoperto essere degli universitari che hanno fatto questo progetto di qua, hanno venduto questo router, graziosino. L'avevano fatto prima con una versione di 256 MB di RAM, ma hanno spedito l'upgrade a 512 MB di RAM. Loro hanno fatto la loro versione customizzata di OpenVRT, perché il costruttore del processore, che è Mediatek, ha modificato i codici sorgenti, li ha rilasciati, ma non ci ha più messo mano dopo. Dopo un annetto di funzionamento, i ragazzi che hanno costruito questo router sono passati a fare altro. Quindi, per loro, questo router è end of support. Non ci sono stati più aggiornamenti rilasciati da loro. Quindi, il prodotto è un prodotto che va a obsolescenza, perché all'interno del router ci sono tanti software che ci girano, per cui sono stati trovati dei buchi di sicurezza, per cui sono state implementate nuove feature, ma non c'era più il firmware. Quindi, per avvalermi dei miglioramenti, che nel frattempo sono intervenuti, ho deciso di passare alla versione OpenVRT, alla versione totalmente libera. La community di OpenVRT, che supporta tanti router, non solo questo, aveva il supporto solo per la versione 256 MB di RAM. Quindi, funzionava tutto, ma mi vedeva la metà della RAM. Perché questo? Perché chi ha inserito il supporto, che è un altro volontario, come me, come tanti altri, magari aveva solo la versione 256 MB e non sapeva neanche che esistesse la versione 512. Non puoi sapere tutto. Quindi, andiamo a vedere il nostro use case 1. Come far vedere a questo router tutta la RAM che aveva a bordo. Quindi, le strade che io posso intraprendere sono tre. Aspettare che qualcuno ci metta mano. Io non faccio niente, nella speranza che qualcun altro abbia lo stesso problema mio e decida di metterci mano. Contattare chi ha fatto la versione 256 MB. Perché se cerco su internet, trovo nel codice sorgente chi ha realizzato quella modifica. E quindi posso contattarlo e fare la versione 512. Quindi affidarmi a una terza persona. Oppure, cimentarmi io stesso nelle necessarie modifiche. cimentarmi io stesso nelle necessarie modifiche, all'inizio, quando ho visto le tre opzioni da fare, si può fare, lo so fare, è difficile, è un firmware che devo andare a fare, non lo so. Opto comunque per la terza soluzione. avendo in passato un background in make and make install, quindi già avevo fatto delle compilazioni, perché mi ero occupato di un altro software dove andavo a compilarlo spesso, già ho un piccolo background. Decido quindi di entrare in contatto con la community. Mi iscrivo alla mailing list, mi leggo il forum della community, mi leggo un po' di mailing list per capire come effettuare la modifica che mi serve, come sottoporre la modifica rispettando i canoni scelti della comunità. Magari sono stato un pochettino leggero in questo. E quindi vederle, una volta fatte le modifiche, eventualmente vederle accettate e implementate. Quindi come skill io ho qualche esperienza di compilazione, skill trascorsi in altre community, perché già ho collaborato con altre community per altri software, quindi già sapevo che ogni community ha delle regole da rispettare. Quindi entro in contratto con la community, scarico i sorgenti e ci guardo dentro. Scaricando i sorgenti il primo scoglio che ho è che devo studiare come si crosscompila e come è organizzato il tutto, perché finora io avevo fatto delle compilazioni sulla macchina che mi serviva, dove mi serviva utilizzare il software. Qua invece io devo compilare da una macchina potente per utilizzare il software su una macchina con un'altra architettura. Quindi devo iniziare a studiarmi pure questo. Inizio a vedere come viene definito il router. Fortunatamente sotto OpenVRT ogni processore che è supportato ha la sua directory con all'interno tutti i modelli di router che sono afferenti a quel processore. Quindi molti processori ormai sono stati passati a DTS. Il DTS è un file che definisce tutto l'hardware che compone il router. Quindi anche la quantità di memoria. Quindi mi definisce il processore qual è, che tipo di periferi che ha. Quindi se ha delle porte USB, se ha delle porte LAN, se ha il lettore di memory card, tutto quanto, l'hardware del nostro router, incluso la memoria. Quindi skill, comprenderne un pochettino di elettronica. Questo perché? Perché a me piace andare a guardare il firmware che interfaccia il mondo esterno con l'hardware vero e proprio. Se invece di cimentarsi su un router dove vai a fare un firmware, ti vuoi cimentare su un programma tipo LibreOffice, non hai bisogno di avere skill di elettronica. Step 2. Il primo tentativo è modificare la quantità di memoria raddoppiandola. Compilo prove e non funziona. Qui sotto possiamo vedere le righe che definiscono la quantità di memoria all'interno del file DTS. Questo era 0x1, 256 MB di RAM, lo porto a 0x2, e nel senso di decimale 512. Provo, non funziona. Perché non funziona? Lì ero tentato di mollare. Ho detto, no, devo andare avanti. Non mi devo demoralizzare, devo andare avanti. A questo punto decido di continuare a studiare e scopro che la mappatura di memoria nel mio processore non è contigua. Quindi va indicata in un modo particolare. Continuare a studiare significa andare a vedere pure gli altri cosa hanno fatto. Il mio processore non è usato solo nel mio router, è usato anche in altri router. Altri router che avevano 512 MB di RAM. Sono andato a vedere i modelli che col mio processore avevano 512 MB di RAM, come li definiscono? Li definiscono invece che è contigua fino a 1C, quindi 469 MB di RAM, e poi dall'indirizzo 0x2 per la lunghezza di 0x4 altri 67 MB di RAM. Riscrivo allo community comunicando i risultati e mostrando il nuovo file DTS per la versione 512 MB. Mentre quando ho chiesto aiuto la prima volta non mi hanno risposto, vuol dire non hai fatto bene i compiti a casa. Continuo a studiare perché non siamo babysitter di tutti, dico io. Questa volta mi rispondono e mi riprendono perché le modifiche che ho fatto non le ho fatte in modo corretto. Avrei potuto accorgermene da me, ma me l'hanno dovuto spiegare. Rimodifico i file, questa volta seguendo i suggerimenti, quindi divido i file di definizione in file generico e due file di definizione delle versioni che includono entrambi il processore. Anche qui vengo ripreso perché nel sottoporre le modifiche invece di modificare ciò che io avevo modificato ho ritirato il submit di quello che avevo fatto prima e ne ho fatto uno nuovo. Mi hanno detto scusa, vai a studiare questa parte di qua che ti spiega come farlo e vedi che diventa più facile. Mi hanno ripreso per alcune cose minori mix di spazio e tab, alcune cose stilistiche, destrizioni e altro. Uno degli utenti più anziani a questo punto visto che la modifica che avevo detto funziona, ok, uno degli utenti più anziani si è quindi occupato di incorporare le modifiche in una sua copia del sorgente. Grazie. 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 che può gestire la raccolta, l'archiviazione dei dati e la successiva visualizzazione. Devo capire come funziona, perché questo software non l'ho mai usato. Quindi inizio a studiare CollectD, che su OpenVRT è integrato nel pacchetto Statistic, studiando varie fonti, ma soprattutto la documentazione ufficiale, che anche se a primo acchitto può sembrare difficile, poi mi sono reso conto che è spettacolare, spiegata benissimo. Quindi riesco a capire come usarlo, quindi come lanciare un comando esterno che mi restituisca i dati che mi servono, come devono essere formattati questi dati affinché CollectD li riesca a interpretare correttamente e a memorizzare. E alla fine come riuscire a configurare RRDTool, che è il programma di CollectD che serve a tracciare i grafici. Quindi ricerca delle fonti e il loro studio. Non è niente che sia chissà che alla portata di tutti. Quindi devo realizzare un software che mi faccia uscire i dati dal modem e manipolarli nel modo corretto. Nell'ultimo anno io ho studiato un pochettino di Python, decido di fare delle prove con Python. Faccio delle prove con Python, le faccio sul router, quello da 512 MB di RAM, dove ho tanta bella flash a disposizione, 32 MB. E quando vedo che alcune cose funzionano decido di passarle sul router dove mi serve realmente. Decido di passarle e scopro che Python non glielo posso mettere, non ho abbastanza spazio. Che fare? Devo trovare un'altra strada, visto che Python non lo posso installare. Quindi decido, riutilizzo di competenze pregresse, che circa 25 anni fa ho fatto un corso di C per gli Unix. Anzi C. Una cosa vecchissima. È arrivato il momento di rispolverarlo, anche se significa altre ore di studio. Perché devo rimettermi un pochettino al passo coi tempi e capirne qualche cosa. Quindi mentre prima avevo guardato dentro i codici sorgenti per il file DTS, ora inizio a guardare dentro i codici sorgenti per vedere qualche cosa di C, cosa sia cambiato. Mi rivedo un paio di guide su internet. Devo riuscire a capire come fare cross compilazione di un sorgente al di fuori della definizione di OpenVRT. Tutto fattibile. Ci riesco. Anche grazie all'aiuto della community di Palermo, gli altri amici di Palermo che mi hanno spiegato come guardare dentro i sorgenti, come compilare. Tutte cose fattibili. Quindi anche qui, riutilizzo di competenze pregresse. Inutile dirvi che tutto il lavoro che ho svolto è liberamente disponibile. Perché se io devo restituire, devo rimetterlo in giro. Quindi in questo caso, se utilizzate la chiavetta Huawei, che è questo, il modem Huawei, già è disponibile. Per il Quacktel è disponibile. Per il Serra Wireless ci sto lavorando. Questo è il risultato di quello che ho fatto. Si vede il segnale, come varia nel tempo, la qualità del segnale. Quindi gli skill di cui ho fatto uso. Esperienze di compilazione, trascorsi in altre community, comprenderne un po' di elettronica, perseveranza, per non demoralizzarsi, perché a volte uno dice mollo. Perseveranza di affrontare le critiche, investigare, riutilizzo di competenze pregresse, attitudini alla ricerca di fonti e al loro studio. Ora dico io, se non avete molto tempo, o pensate di non avere adeguati skill, sono tutte cose comunque che secondo me si ci può arrivare, non è detto che non possiate contribuire in altri modi al free software. Questo è una delle maniere per contribuire al free software, ma non è l'unico. Questo è una delle maniere per fare community. Potreste decidere di realizzare delle guide, di scrivere un wiki, di migliorare o aggiornare la documentazione dei software che già ci sono. E poi se proprio non vi immaginate neanche in questo ruolo, allora sovvenzionate Wikipedia. Qualcuno paga i server su cui gira la Wikipedia e che tutti quanti utilizziamo, anche io li pago. Così contribuito ugualmente al sapere generale. Quindi ricordatevi, il free community vuol dire tutto questo. Vuol dire lavorare per un obiettivo comune che ci arricchisca e ci gratifici. Ma non solo ed esclusivamente a livello economico. Spesso è più bello avere un riconoscimento. Per me, io ritengo che aderire all'open source e nel camp software è uno tra i migliori investimenti che possiamo fare. che ci può far crescere tantissimo. Grazie.